amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive oggi a differenza della grande maggioranza delle puntate siamo in sede perché in officina piove e quando piove le riprese vengono sempre qualitativamente in maniera non non eccessa quindi abbiamo deciso di girare un filmati in sede e ogni tanto trattiamo degli argomenti un po particolari allora sulla base di parecchie richieste che noi riceviamo e soprattutto sulla base di tante macchine qui parliamo della 500 abart nello specifico di tante macchine che noi abbiamo avuto in officina nel corso degli anni mi è venuto in mente di stilare una cioè di fare una trasmissione anche mixandomi con altre con altri canali che hanno più o meno sollevato gli stessi le stesse problematiche descrivendo quelle che sono quelli che sono i problemi più o meno gravi e più o meno frequenti che appunto affliggono i vari modelli di 500 abart io inizierei uno dei più frequenti sicuramente è la rottura della centralina blue and me che è una centralina che appunto collega il wifi e va a dialogare appunto col vostro col vostro telefonino e che è una centralina che spesso si rompe e la cui sostituzione è abbastanza costosa noi ne sono capitate un paio e lì purtroppo non si può riparare come tante altre centraline che ci sono nelle varie macchine non c'è modo di ripararle non c'è neanche modo di farle revisionare e quindi bisogna sostituirla e un pezzo del genere un pezzo abbastanza abbastanza costoso poi altre problematiche tipiche ma sono dovute sostanzialmente anche a una qualità dei materiali parliamo non so del circuito di raffreddamento spesso si crepa e si rompe la vaschetta dell'acqua questo è tipico un po di tutte le macchine sia ex fiat chiamiamole così non mi viene da chiamarle stellanti non mi viene quindi chiamiamole effettivamente come erano appunto fiat e anche le alfa abbiamo avuto tantissime dalle mito le giulietta con il serbatoio del liquido di raffreddamento che si crepa e lì è un bel problema perché chiaramente perdendosi l'acqua di raffreddamento se uno non è proprio a corto a corto vengono fuori delle problematiche non indifferenti e sempre ricollegandomi al discorso del circuito di raffreddamento anche le tubazioni spesso cedono e questo proprio dovuto le abbiamo proprio anche aperte e sono tubazioni di scarsa qualità perché una tubazione diciamo di buona qualità una tubazione che ha in sezione una serie di fidi diciamo è una tubazione rinforzata con del materiale sostanzialmente del cavo che attraversa il tubo e che va a rinforzare ed evita l'effetto polmone noi abbiamo avuto alcune 500 dove appunto l'effetto polmone era molto marcato dove si era proprio crepato il tubo è aperto il tubo all'interno del tubo è tutta gomma quindi vuol dire che per risparmiare adesso non so che differenza ci sia a livello industriale tra un tubo rinforzato un tubo diciamo di semplice costruzione alla cinese diciamo così credo che sia una differenza veramente minima però è scandaloso che vengano utilizzati questo genere di materiali perché se ne rompono veramente tanti altre tubazioni che spesso si rompono sempre che tanto lì fanno di tutta l'herbon fascio sono anche i tubi dell'intercooler che anche in questo caso diciamo vanno in pressione dai 30 40 chilometri in su e anche in questo caso hanno una pressione molto maggiore fra l'altro di quelli dell'acqua perché quelli dell'acqua scaldano e quindi il deterioramento può essere dato dal calore nel caso dei tubi dell'intercooler vanno in pressione e quindi si rompono o si staccano spesso si rompono si fessurano longitudinalmente oppure spesso si staccano dalla sede dal canotto il tubo si stacca e anche in questo caso ripeto ci vorrebbe veramente poco soprattutto dopo le prime serie cioè tutte le macchine le prime serie hanno delle problematiche normale cioè fisiologico ma anche le macchine alte di gamma e quant'altro una volta che hai fatto passare alla prima produzione del primo anno stili sulla base di quelle che sono le segnalazioni delle officine l'elenco delle problematiche e vai a fare gli opportuni correttivi quello che è assurdo è che la 500 abart è sul mercato da tantissimi anni e queste problematiche praticamente sono le stesse dalle prime serie quindi vuol dire che non hanno tenuto conto minimamente delle segnalazioni che hanno ricevuto poi un'altra parte un altro pezzo che molto spesso si si rompe questa valvola pierburg che abbiamo già visto anche in altre macchine soprattutto peugeot peugeot si rompe quasi di default alla valvola pierburg e anche anche nel caso della 500 e bene accorgete perché il motore tende a sfarfallare quindi fino ad arrivare a tagliare potenza quindi nei momenti in cui il motore comincia a tagliare e ad arrivare appunto spia motore accesa e centraline in recovery la gran parte delle volte dovuto alla rottura della valvola pierburg tanto per fare un esempio un'altra parte questa è molto più grave è in alcuni casi soprattutto fino alle versioni euro 4 euro 5 quindi quelle le prime serie diciamo così abbiamo avuto diverse segnalazioni o diverse macchine che avevano il collettore di sky collettore che collega la turbina ihi crepato è un collettore fatto in ghisa anche lì una ghisa probabilmente è un discorso di raccordo dei tubi anche di tipo di ghisa che probabilmente non ha una qualità eccellente anche lì probabilmente secondo me se li fanno fare in cina dove in alcuni punti soprattutto sulle pieghe fra un cilindro e l'altro si crea appunto una crepa quindi già le turbine ihi hanno delle problematiche per i cavoli loro perché spesso e volentieri all'interno nel carter caldo c'è proprio una ghigliottina che apre e chiude e da lì parte proprio la tipica crepa delle turbine ihi ma quello è dovuto la 500 abarth non è produttrice di turbine ihi è il tipo di turbina che utilizzano che ha spesso questi problemi non per niente poi vengono spesso modificate o a seconda del modello escono già con delle turbine più performanti che non hanno questi problemi quindi garret piuttosto che mitsubishi o altri tipi di turbine quindi il fatto che si crepe il collettore diciamo che è un altro pezzo molto costoso in via eccezionale noi non siamo molto propensi a fare questi lavori di chiamiamo accrocchi cioè si potrebbe anche saldare il collettore dipende in che punto è rotto quindi se la crepa appena appena visibile si può anche tentare una saldatura comunque ci vuole sempre un bravo saldatore che sappia il fatto suo perché appunto saldare queste queste parti non è una cosa che si fa tutti i giorni anche perché deve durare nel tempo viceversa bisogna cambiare il collettore quindi questo è un altro punto che sicuramente va ad emerito di una macchina che ha tante caratteristiche positive un altro aspetto ma perché è dovuto proprio dalla batteria molto piccola perché il vano motore della 500 è molto piccolo e quindi ha una batteria mi sembra da 45 ampere se non mi ricordo male comunque una batteria molto piccola e tende a durare poco nel tempo ma proprio perché è dovuto al fatto che il vano motore non consente di alloggiare una batteria che garantisca una durata del tempo maggiore indipendentemente dalla marca della batteria perché può essere qualunque anche una batteria un Exide una Bosch cioè batterie di ottima qualità se sono troppo piccole soprattutto in un vano motore che scalda tantissimo è molto facile che gli elementi che sono contenuti nella batteria dopo non tanto tempo cedano e la macchina appunto stenterà poi a partire un altro aspetto che ci è capitato anche abbastanza spesso sempre a livello di componentistica più o meno efficiente è la valvola pop-off che è collegata le valvole pop-off di queste macchine di ultima generazione non sono più le valvole pop-off dove uno metteva le valvole pop-off a sfiato libero e quant'altro le classiche Bosch nere quelle a 90 gradi ingresso e uscita ma sono valvole pop-off che sono collegate con il condotto di aspirazione gestite elettronicamente quindi nei momenti in cui si rompe una valvola pop-off il costo non è di 70-80 euro ma parliamo di 300-350 euro in quel caso cambiarla per cambiarla uno ne mette una in alluminio ci sono ditte che appunto fanno questo genere di pop-off comandata elettronicamente perché non sono specifiche per quella macchina e a quel punto uno taglia la testa al toro poi altri punti che ci vengono in mente che sono capitati sono il sensore del pedale acceleratore si accende la spia del heel holder praticamente è quella spia che consente di tenere la macchina frenata nel momento in cui uno si ferma in salita stacca il pedale del freno e la macchina rimane ferma per alcuni secondi e questo sensore è abbastanza anche perché è messo in un punto in cui è molto facile che gli arrivi dell'umidità magari uno sale con le scarpe bagnate e quant'altro è messo in un punto in basso e quindi il fatto che questo sensore si vada a rompere perché probabilmente dopo un po' ricevendo dell'umidità dell'acqua che lo va a cortocircuitare chiaramente si deteriora abbiamo avuto alcuni casi di rotture delle farfalle di aspirazione quindi anche quello è un pezzo abbastanza costoso e non è così frequente in altre macchine cioè anche in questo caso probabilmente dipenderà parte dalla qualità adesso non mi ricordo a memoria il fornitore della farfalla però anche lì la qualità dei materiali evidentemente pecca un attimino e in più il fatto che come diciamo ci sono due problematiche una è la qualità dei materiali e uno è il fatto che all'interno di quel vanno motore gli spazi siano molto ristretti è un motore che scalda tantissimo più o meno succede o succede quello che succedeva una volta sulle delta integrali cioè anche in quel caso non entrava uno spillo perché era un motore grosso ovviamente alloggiato in un vanno motore in maniera millimetrica ovviamente anche in quel caso calore notevole soprattutto se uno poi la macchina la preparava stesso dicasi per le 500 quando uno prepara la macchina aumenta anche il calore e con l'aumento del calore laddove ci sono delle componenti scadenti queste hanno una vita ancora più breve poi le ultime due o tre cose perché ce ne sono delle altre io ho elencato un po' di cose che sono successe a noi o mi sono documentato vedendo altri filmati sul cercare di diciamo di concentrare la maggior parte delle problematiche e darvi un resoconto che sia il più completo possibile a noi è capitato spesso e anche in altri video l'hanno ribadito la delicatezza dello sgancio del sedile per accedere ovviamente la 500 Abarth e due porte per accedere ai sedili posteriori sia che questi siano quelli normali sportivi sia che siano i sedili sabelt quelli con il guscio quelli belli sportivi della sabelt in ogni caso hanno un sistema di sgancio con una levettina in plastica che si rompe solo a guardarla quindi bisogna stare molto attenti essere molto delicati accompagnare il sedile perché se vi rimane in mano anche in questo caso un centinaio di euro per mettere posto la maniglia vi partono immediatamente quindi anche lì aver fatto un qualche cosa un pochino più resistente o con un'anima interna in alluminio sicuramente avrebbero evitato un sacco di erogne non loro quantomeno ai clienti poi problematiche legate al e questo lo vedete spessissimo noi abbiamo visto un sacco di 500 con la parte del cruscotto lato passeggero ringonfiata tendeva a sollevarsi la plastica perché si come dire si sollevava in funzione del fatto che all'interno di questa parte c'è l'airbag probabilmente anche lì per una questione di calore il vano interno non che l'airbag si sia gonfiato all'interno se non sarebbe scoppiato ovviamente però il pezzo dell'airbag infilato appunto nel cruscotto probabilmente assottigliato nella parte superiore e lì questa parte prende sempre il calore dal vano motore e spessissimo si vedono questi cruscotti che non sono belli lisci e lineari ma fanno una specie di gobba li abbiamo visti veramente tanti non riusciamo a capire come mai si gonfiassero in quella maniera e la ragione probabilmente è questa e come ultima problematica spesso abbiamo riscontrato la rottura dei cuscinetti della scatola sterzo quindi su vetture ovviamente molto chilometrate questo ci sta perché comunque è una cosa che può esserci però le scatole sterzo qualunque macchina ha le scatole sterzo ogni tanto capita qualche macchina molto chilometrata di altre marche ovviamente in maniera più frequente capita sulle 500 Abarth quindi lì non c'entra il calore c'entra anche in quel caso la qualità della componentistica con la quale è stata costruita la scatola sterzo ecco sicuramente ci saranno degli altri problemi e determinati problemi sono come dire non dico giustificati ma sono anche possono succedere anche su vetture di altri di altri marchi su altri modelli diciamo che sulla 500 Abarth sono particolarmente frequenti questo è andava rimarcato quindi penso che sia un video utile per tutti coloro che hanno questo tipo di macchina che dipendentemente da quello che abbiamo elencato è una macchina che ha delle caratteristiche positive cioè una macchina che ha fatto il suo successo la compattezza il fatto che sia una macchina sportiva di piccole dimensioni un motore che si può comunque preparare in maniera sufficientemente facile ovviamente quello che ho sempre detto a tutti non esagerate con le preparazioni perché l'ultimo punto dolente della macchina anzi forse il più importante è il fatto che la macchina il telaio della macchina non è stato costruito a sé stante è lo stesso telaio della panda perché per questioni di economia di scala o di piattaforme chiamiamolo così a livello industriale se si chiamo piattaforme il telaio è in comune con la panda quindi la panda ha un determinante eroga una determinata potenza una 500 che poco poco ha 130 cavalli 135 cavalli e arrivano facilmente ma anche con potenze molto superiori ai 180 200 cavalli capite che il telaio di una panda che fa 65 69 cavalli non può essere uguale a una macchina che ne fa 200 o 180 già di serie su alcune versioni quindi anche in quel caso avrebbero dovuto quantomeno nelle zone più sollecitate i duomi i fazzoletti di rinforzo dove c'è l'attacco del montante del parabrezza rispetto al telaio cioè in alcune parti avrebbero dovuto fare dei rinforzi e la stessa problematica uguale chi ha avuto la fortuna di possedere o chi possiede una delta integrale sa esattamente che queste problematiche sono esattamente uguali al telaio della delta della delta integrale perché ovviamente anche in quel caso c'erano due o tre punti strutturali il famoso parte dei duomi anteriori che si crepavano o dei montanti del parabrezza che andavano a creparsi appunto nel punto di attacco con il telaio era proprio tipico delle macchine di quel periodo cioè tutte le delta chi più chi meno avevano quel problema soprattutto le delta integrali che avevano chiaramente una potenza scaricavano a terra una potenza molto molto superiore quindi diciamo un vizio un po' comune di casa fiat diciamo così però per il resto non voglio demonizzare la 500 Abarth non voglio demolirla come prodotto però ripeto secondo me è stato interessante elencare questi problemi e mi farebbe piacere avere anche dei feedback da parte vostra se avete se riscontrato o vi ritrovate con questo genere di problemi o magari ne segnalate altri che possono essere utili a tutti coloro che poi leggono i commenti sul video io direi che anche per questa 500 Abarth per oggi è tutto vi invitiamo come al solito a cliccare in basso a destra sulla campanella è gratuito non mi costa assolutamente niente se vi fa piacere iscrivetevi al canale in mano tale da dare maniera sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima a Grazie a tutti.